Buon lunedì a tutti, parliamo adesso del bonus vacanze da 1.400 euro per pensionati con disabilità grave articolo 3,3 o per nuclei familiari con all'interno un disabile grave. La domanda la si può fare direttamente dal sito IMPES accedendo con le credenziali Speed CE CNS. Dalla piattaforma IMPES è state IMPES Insieme Senior. Non ci sono limiti geografici o stagionali, la meta del soggiorno comunque deve essere in Italia mare, montagna o località d'arte. L'importante è che la prenotazione si effettui tra luglio ed ottobre e che la misura va spesa entro il 1 novembre 2023. I beneficiari della misura sono i pensionati con disabilità a carico della gestione di vendenti pubblici IMPES o che hanno aderito alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o ancora che sono a carico della gestione fondo ex e-post. Possono partecipare al bonus anche gli accompagnatori o i parenti dei disabili in possesso di alcuni requisiti fissati nello stesso bando.